lotta agli sprechi continua a sarno l'operazione spending review portata avanti in particolare dall'assessore alle finanze gaetano ferrentino lotta lotta agli sprechi a sarno si lavora alla spending review in prima linea l'assessore alle finanze gaetano ferrentino si andrà a tagliare soprattutto su quelle che sono le linee telefoniche oltre 100 quelle intestate al comune intanto il 2 settembre si torna in aula per approvare il consuntivo saranno mesi un poco convulsi per le scadenze sugli strumenti finanziari sui quali siamo in forte ritardo sia per la scadenza elettorale sia per una serie di problemi legati alla nomina dei revisori dei conti il 2 settembre andrà in aula l'approvazione del conto consuntivo 2013 è un atto istituzionalmente dovuto con le dovute cautele chiaramente perché non era una nostra gestione economica anzi politicamente che allora rappresentava la minoranza che oggi è maggioranza aveva votato anche contro al preventivo dal quale poi scaturisce questo conto consuntivo i revisori dei conti sono stati immediatamente insediati già alla prima seduta di consiglio comunale hanno lavorato in maniera serrata su questo conto consuntivo consegnandoci una relazione che tutto sommato ha il parere favorevole con una serie di come dire di appunti dei quali tenere notevolmente conto nell'elaborazione dei successivi strumenti finanziari. Dobbiamo approvare il preventivo 2014 un controsenso farlo a fine settembre inizio ottobre perché oramai come capacità di spesa con i dodicesimi è quasi tutta esaurita però è un adempimento formale che va fatto. Intanto i tagli dove andranno ad incidere avete già insomma studiato un po' la situazione? Il conto consuntivo che andiamo ad approvare ci dà anche un poco la possibilità di analizzare ai flussi finanziari del comune e ci siamo resi conto fin dal nostro insediamento lo sapevamo anche prima di poter incidere su alcune voci rispetto alle quali abbiamo già dato mandato agli uffici dopo un'attenta disamine, un'attenta relazione di dover procedere. C'è per esempio il problema delle 105 linee telefoniche fisse che il comune ha intestate che sembrano un poco pletoriche, numerose insomma forse non assolutamente adeguate a un comune come il nostro ma credo che forse per motivi di sicurezza nemmeno altri comuni abbiano tante linee telefoniche. Poi c'è il problema anche delle utenze elettriche alcune vanno necessariamente soppresse, l'andavano fatto prima e ci costano tanto. La scarsa cura di questi particolari ha portato per esempio all'ipotesi in cui su un contatore conteggiato per stima dalla Enel che puntualmente mandava le fatture e le pagavamo adesso potremmo richiedere solo su un contatore la restituzione di 40 mila euro e per un comune come il nostro riavere 40 mila euro è una cosa molto importante in questi tempi di spending review. Il concetto è questo. Non possiamo eventualmente perché siamo in fase di analisi chiedere sacrifici ai cittadini e poi tollerare che la macchina amministrativa faccia degli sprechi. Credo che sia un atto di equità e un atto soprattutto di levatura morale necessaria perché è necessario proprio ricostruire partendo da queste cose la fiducia tra l'ente e il cittadino.